L'anno prossimo il Teatro Classico Giovani tornerà protagonista al Teatro Greco Acrae di Palazzolo. Le rappresentazioni dei giovani attori andranno in scena dal 15 maggio al 10 luglio 2022 a darne notizie il sovrintendente dell'Inda Antonio Calbi. Sono pieno di gioia, ha detto il sindaco di Palazzolo Acrae di Salvatore Gallo, si riparte veramente. Il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani è la più importante rassegna di teatro dedicata alle future generazioni nel panorama nazionale e internazionale. Ogni anno al Teatro di Acrae ragazzi di tutta l'età presentano originalissime riletture dei testi classici greci e latini nel corso di un evento che fa della partecipazione e dello stare insieme uno dei suoi punti di forza. Nasce da un'intuizione di Giusto Monaco che nel 1991 decide di dare vita a una manifestazione capace di mantenere vivo il rapporto con le nuove generazioni attraverso la tutela dei valori fondanti della cultura classica. Il Festival fino al 2000 ha avuto una cadenza biennale per poi diventare un appuntamento annuale. Per quasi due mesi studenti di istituti superiori, università, accademie provenienti da tutto il mondo si alternano tra le proprie esibizioni e le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa alle quali assistono come spettatori in un connubio tra gioventù e classicità. La rassegna a Palazzola Crede diviene in questo modo garante dell'impegno da parte della Fondazione Inda nei confronti degli studenti di ogni ordine, grado dalle scuole elementari alle università italiane e straniere. Dopo lo stop, a causa della pandemia, si ricomincia.